Per il 2011 Panasonic aggiorna la sua piattaforma di WebTV e le cambia nome, da Viera Cast a Viera Connect. La novità principale sono le applicazioni che si vanno ad affiancare ai classici servizi di streaming e social network come Facebook e Twitter. Le applicazioni possono essere scaricate da un market apposito, come vediamo qui in questa breve demo. Ci saranno anche dei giochi, quindi sarà possibile giocare direttamente sul televisore senza utilizzare una console. Ma un'altra novità molto interessante sono gli accessori. Sarà possibile infatti collegare al TV tutta una serie di accessori realizzati appositamente, come per esempio sensori biometrici oppure altri accessori per i giochi. E in questo modo il televisore si trasformerà in un vero e proprio computer o meglio forse una console. Direttamente in salotto senza bisogno di scatole esterne.